Siamo dati in Gesù e Maria, dalle sue allegresse, in questo splendido congelo di oggi che abbiamo ascoltato e che è il cuore di questa domenica, ci pone in anzi e questo grande insegnamento dopo Gesù in risposta a questo incidente, tra l'altro costato dall'ignoranza dei cari discepoli di Giano Giovanni, a cui Gesù non vi rendete conto di quello che state dicendo o di quello che state facendo, però ha poi occasione di approfondire e di dare un grande insegnamento sullo stile che deve caratterizzare i suoi discepoli che culmina appunto nel servizio e nel dare la vita. Durante le novità di ieri sera ho cercato di approfondire un po'. Il tema di dare la vita oggi vorrei vedere con voi questo discorso del servizio. Ci accorgeremo che qui non si tratta semplicemente di fare qualcosa come dire di buono, di operativo, di spirito di servizio del prossimo. Magari, fosse solo questo, sarebbe tutto sommato abbastanza possibile. È molto di più ed è molto impegnativo e dobbiamo semplicemente fare attenzione alle parole precise che usa il Signore e anche al contesto che approfondisce. Allora, la domanda dei figli di Zebedeo, è evidente, ci avevano qualche mania di grandezza anche se non erano veramente consapevoli. insomma, se dire alla destra e alla sinistra del figlio di Dio, fatto con, insomma, essere il numero uno, il numero due, affianca al Signore, insomma. La prima cosa, dopo, vuol dire la notte precedente, questi non si rendono conto, capite, di quello che stanno dicendo. e dicevo nell'omiglia delle 8 e 30, e questo lo ripeto brevemente, prima l'ho approfondito, attenzione ad essere consapevoli che noi adesso facciamo, pensiamo e diciamo molte cose sballate agli occhi di Dio senza minimamente renderci conto. Questo dobbiamo tenerlo sempre presente, perché non rendersi conto non è peccato. Ecco, non voler ammettere che ci sono molte cose di cui non ci rendiamo conto è peccato, perché significa essere superbi ed avere il cuore duro, non essere consapevoli dei nostri limiti umani. Ora, ciò che era in situ quella domanda era appunto questo spirito di dominio e di sovraffazione che è proprio il contrario del Vangelo, quindi il mettersi al di sopra degli altri. Voi sapete che mi mettersi al di sopra degli altri riconfigura il vizio capitale della superbia a cui quasi nessuno fa caso e che caratterizza anche molti rapporti interpersonali. Quindi, ma se la sicuro, insomma, lo sapete con certezza c'è l'esperienza del confessionale molto raro che qualcuno faccia un buon esame di coscienza approfondito sul tema della superbia, ma questo è il primo vizio capitale che significa? che significa che ce l'abbiamo tutti, i maestri di spirito dicono che la superbia l'anima esce dal corpo e la superbia esce due minuti dopo rimane ancora un pochino a far danni in mezzo al cadavere e poi se ne parta, quindi immaginate, no? Allora, come sempre bisogna fare un pochino di esempi, perché sono gli esempi che ci fanno vivere. Ecco, punto primo, come tratto io al prossimo, perché questo è un punto fondamentale. Gesù dice, attenzione, servi se volete essere grandi, ma se volete essere veramente il numero uno, gli schiavi di tutti. Allora, proviamo un attimo a calarci, noi oggi non li vediamo grazie a Dio più gli schiavi, no? Però più o meno lo sappiamo come campavano gli schiavi. Domanda, può un schiavo rivolgersi? Cioè, il padrone gli fa una cosa e gli dice no, gli darà la risposta di questo oggetto e lo può fare? Ti ammazzate, voi, può lo schiavo permettersi di rivolgersi al padrone in maniera grossolare e lo capisci niente, ma da cosa che ha le mazzate prende? Attenzione, facciamo il contrario, può il padrone trattare malamente lo schiavo e lui zitto e muto? Se è schiavo, lo fai come? Lo tratta come una pezza da piedi, quello zitto e muto. Allora, che cosa intende Gesù? Si è andato lo schiavo di tutto, adesso cominciamo a fare noi siamo così, cioè il prossimo ci può trattare in qualunque modo e io zitto e buono lo perdono e sono sempre gentile e pagate come erano gli schiavi, come il padrone, mazzate, parolacce, eccetera, eccetera, lo schiavo deve subire perché se è sassioso arriva in là, ci sono altre mazzate, capite? Capite cosa intende Gesù? e però io, nei confruti del prossimo sono umile, dolce, pacato, affabile, cordiale, gentile, rispettoso. questo ci dice Gesù, qui, quando siete stavolgendo tutti quanti, sono tutti quanti entusiastici, ah, è il nostro stile, è il servizio, per carità, vero, ma diamo un po', che significa farsi servo e farsi schiavo del prossimo? Allora, come sono i nostri modi di trattare il prossimo? Ma a partire dalle persone più vicine, a partire dal marito, dalla moglie, dal fratello, dalla sorella, dal figlio, dall'amico, dal fratello di comunità parrocchiale, dal compagno del suo gruppo, come lo tratti? Cioè, se noi stessimo soltanto un mese a pensare a questo fatto, provare a ispirare i nostri rapporti a questa logica, faremo tantissime cose bene. Il prossimo è un trattato, capite, in una condizione, non lo devo mai mortificare, per esempio, mai, non lo devo mai trattare con arroganza, non lo devo mai trattare con aggressività, con impulsività, capite? Non devo mai far sentire una persona che mi sta vicino a uno stupido, uno che non capisce niente, capite? Anche se facciamo un esseno concesso, veramente stupito ci fossi, non capisce niente sul serio, capite? Ma io non lo devo far sentire così, altrimenti becco, e becco pronto, capite? Cioè, quante ferite noi diamo a chi ci sta vicino, è vero che molte volte una persona che ha questi stili, e questo ve lo dico da sacerdote, Per questo non dobbiamo mai, mi raccomando, qui stiamo parlando discorsi, come dire, teorici, oggettivi, non giudichiamo mai nessuno, perché quando vediamo una persona che ha, per esempio, uno stile aggressivo, arrogante, superbo, devi sempre pensare che tu non hai idea di quello che si porta dietro una persona così, perché questo è stato sicuramente trattato, umiliato, fortificato, per una vita, e quindi reagisce in questo modo, perché guardate che inordinariamente, adesso non voglio mettermi a fare insomma una salute psicologica, ma l'uomo tira fuori da sé semplicemente quello di cui è pieno, è ricevuto, ecco, è chiaro che quindi non giudichiamo nessuno, ma prendiamo queste cose per farle nostre, quindi, l'essere schiavo dice ancora di più dell'essere serbo, quindi l'essere serbo è uno stile del mettere la propria vita umilmente a servizio del prossimo, ma l'essere schiavo proprio denota una modalità di rapportarci di questo genere, perché fare questo? Gesù non è che si può dire alle conti, che cosa fa Gesù con un momento? Come tratta Gesù un'anima? Come la vicina al Signore? Cioè, la delicatezza, bontà, il rispetto anche che c'è Gesù, pensate a quanto Dio rispetta la nostra libertà, io per esempio, a proposito, vi ho avuti quanti a leggere, l'ho scritto anche sul bollettino, il nuovo scoletto che ho fatto per quanto riguarda la comunione, sapete, tante volte pensando alla comunione, alla presenza di Gesù nell'organismo, ci vediamo conto cosa significa che Dio si fa, si nasconde in una materia inerte, io ci posso fare qualunque cosa, capite, sta messo nelle nostre mani, la forza sopra e la sbatta al muro, cioè uno può fare una comunione, capite, stante in una condizione assolutamente inade, capite, stante in stato di peccato gravissimo, non è che che nessuno ha, se uno viene a sanzo per fare la comunione, lo sa lui quello che si vuota dentro il cuore, no? E però, capite, Gesù entra dentro un'anima, che si trova in questo modo, si lascia fare cose di questo genere, capite, pensate a tutti gli scandali che si mettono adesso in giro, pensate a una persona purtroppo che fanno cose di questo genere e sale su un altare, ma che cosa gli dice il cuore al nostro Signore? Lui sta zitto, vuono, è mudo e si fa fare tutte queste cose, capite? Quindi non è che ti dà un insegnamento e dice, eh sì, io lo faccio schiavole tutti, lui lo fa tutti i giorni, non lo fa soltanto quando la morte non conosce, lo fa in continuazione, capite? Quante volte si passa davanti al Santissimo Sacramento e questo, guardate che cambia con frequenza, proprio in un stato di assoluta indifferenza, cioè, in molte chiese si chiacchiera, si parla tranquillamente come se fosse in salotti, ma, oh, lì ci sta Gesù Cristo, capite? E Gesù Cristo sta lì zitto e buono e muto, potrebbe uscire dal tabernacolo e fa un bello strillo, ma non lo fa, perché? Perché vuole che tu, che sei una persona libera e intelligente, che dovresti avere un pochino di fede, ci arrivi da solo a capire che quando passi davanti al tabernacolo, siccome quello è Dio, bisogna piegare le ginocchia, ma lo devi arrivare allontanamente tu, se non lo fai peggio per te, ci devi arrivare e tu che se stai a casa di Dio, a casa di Dio, si parla di Dio e si parla con Dio, non si parla degli affari tuoi, non si fa lo schiamazzo, non si fa il mercato, lui sta zitto, vuole un muto dentro il tabernacolo, certo, alla fine della vita parla, perché quando poi lo sentiamo avanti a lui parlerà, capite? ma qui, anche quando vuole farti capire, ha pazienza, misericordia, rispetto, perché ti tratta comunque, non come uno stupido, o come uno che ti prende ammazzate e ti fa per forza così, ma come una persona intelligente, come una persona che deve riflettere, deve ragionare, deve arrivarci a te, e questo stile che usa il Signore deve essere anche il nostro stile, c'è una difficoltà con tua moglie, con tua marita, c'è un problema evidente, ma come fa, non arrivarci a una cosa del genere, non c'è una cosa del genere, capite? Non lo modificare, quindi piano piano abbi pazienza, prega, rispettalo, e dà gli a tempo che vedrà che piano piano ci arriverà, ecco, io mi fermo, insomma, perché penso che il messaggio Gesù ce l'abbia fatto a pianificare, non corre a profondire tanto, no? Però certamente noi dobbiamo sempre tornare a guardare a Lui, e non soltanto a quello che ci ha insegnato a parole, a quello che ci ha insegnato a fatti durante la sua vita terrena, e a quello che continua a insegnarsi a fatti durante la sua vita eucaristica, perché imparare a riflettere bene sulla presenza di Gesù nell'eucaristia è una grandissima fonte di insegnamento e di meditazione che continua per tutti. Ci aiuti la Madonna, a fare nostre queste considerazioni, lei che si è definita, ha visto come risposta l'Arcangelo San Capriere, noi diciamo ecco l'ancela del Signore o ecco la serva del Signore, attenzione, in greco la Madonna non ha detto ecco la serva del Signore, perché in greco la parola è due, due, due in greco significa schiava, all'Arcangelo San Capriere, la Madonna ha risposto ecco la schiava del Signore, Gesù ha detto che vuole essere il primo e deve essere lo schiavo di tutti, guarda che è la più grande che ha creato, il Signore, c'era la Madonna, forse no, e la Madonna cosa ha fatto? La schiava di tutti, chi conosce il greco o chi non lo conosce se compri qualche libro degli esigeni controlli se ne sto dicendo una pagina la Madonna ha detto questo ecco e la nostra vita cristiana vale tanto quanto ci avviciniamo a questi altissimi e impegnativi potenti saremo veramente santi guardate quando qualcuno che ci conosce ci dice io da Leonardo non mi sono mai sentito trattato male o mortificare ma se qualcuno potesse dire di noi una cosa di questo genere saremo quasi santi quasi santi se qualcuno può dire altro rispetto a questo ci abbiamo ancora da camminare tanto o poco Dio lo sa ma sicuramente ci abbiamo ancora da camminare siamo orati Gesù e Maria grazie a tutti grazie a tutti